Questa mattina la Regione Marche, attraverso l'assessorata alle infrastrutture di Francesco Baldelli, ha presentato la consegna dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dello stabile che ospita la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile di Pesaro nella struttura compresa fra Via dei Cacciatori e Via dei Canonici. Un investimento importante della Regione Marche per 1.800.000 euro su una struttura che, oltre a potenziare la SOI, una volta ottimati i lavori, diverrà anche la sede operativa del 118. Adeguiamo sismicamente un edificio strategico per la città di Pesaro, ma per l'intera provincia, la Sala Operativa Interforce, che verrà adeguata sismicamente con un investimento di 1.800.000 euro, un lavoro incagliato da anni, ma che sarà anche un edificio ad alta efficienza energetica. Emissioni zero dell'edificio e sarà un edificio di classe quarta, quindi quegli edifici strategici che devono funzionare durante le emergenze. Questo lo facciamo ovviamente sugli edifici di protezione civile, ma lo facciamo anche sugli ospedali. Il primo edificio regionale è no zero energy building, quindi Enzebbe, a consumo praticamente nullo. Credo anche architettonicamente sarà un bel edificio dove, oltre alla SOI, verrà ospitata anche la nuova sede del 118 e ci sarà quindi tutto il centralino delle emergenze con due ambulanze pronte alla partenza in caso di emergenze. Posizione importante, strategica, studiata a tavolino, quindi benvenga anche tutta la parte del rispetto dell'operatività della struttura sul lato ambientale, sul lato energetico, quindi benissimo. Andavanti così sicuramente poche parole, ma facciamo sicuramente molti fatti rispetto a quello che pensano e dicono altri. Grazie all'assessore, all'assessorato e tutta la volontà del Presidente Acquaroli e di tutta la Giunta di cercare di portare a termine delle opere che magari sono iniziate nei presenti amministrazioni, ma che erano rimaste incagliate. Quindi benissimo, benissimo per la SOI e per il 118 che aspetta questo stabile tantissimo tempo per ridare dignità degli operatori che lavoravano veramente in condizioni veramente pessime. Un'altra notizia, anche il Geno Civile di Pesaro sarà presto, avremo anche la consegna dei lavori dell'adeguamento sismico, miglioramento sismico del Geno Civile di Pesaro. Pesaro in questo momento sta recuperando il gap dei decenni passati dei mancati investimenti Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino. Frutto della grande attenzione di questa maggioranza regionale nel recuperare le diseguaglianze territoriali. Quindi c'è stato un cambio di passo con la Giunta Acquaroli. In questo momento il cambio di passo ormai dato per assodato diamo continuità all'azione della Giunta Acquaroli con interventi strategici e puntuali in tutto il territorio. A cominciare dal capoluogo di provincia che davvero è rimasto indietro. Pensate alla quadrilatero, quanti interessi aveva spostato in altre province marchigiane. Giusto quell'intervento, oggi gli interventi li dobbiamo ribaltare sulla provincia di Pesaro e sulla provincia di Ascoli Piceno e Fermo che sono rimasti indietro rispetto agli interventi fatti nei decenni passati in altre zone del territorio.